Scipione l'Africano, il generale che salvò Roma. Pubio Cornelio Scipione, noto anche come Scipione l'Africano, è stato uno dei più grandi condottieri e statisti della storia romana. Nato a Roma nel 236 anno corrente, apparteneva alla nobile Gens Cornelia, una delle più antiche e prestigiose famiglie romane. La sua carriera militare iniziò nel 210 anno corrente, quando fu nominato pretore per la Sardegna. In questo ruolo si distinse per le sue capacità di comando e per la sua abilità strategica. Nel 205 anno corrente, a soli 29 anni, fu eletto con sole e gli fu affidato il comando della guerra contro Cartagine, la principale rivale di Roma in quel periodo. Scipione decise di portare la guerra in Africa, il territorio di Cartagine, per sconfiggere l'avversario sul suo terreno di casa. Nel 204 anno corrente sbarcò in Africa e, dopo una serie di vittorie, nel 202 anno corrente sconfisse definitivamente l'esercito cartaginese nella battaglia di Zama. Questa vittoria fu decisiva per le sorti della Seconda Guerra Punica e confermò la supremazia di Roma sul Mediterraneo. Per la sua vittoria a Zama, Scipione fu acclamato l'africano e gli fu concesso un trionfo, il più alto onore che un generale romano potesse ricevere. Scipione non si limitò a essere un grande condottiero, ma fu anche un abile statista. Nel 201 anno corrente fu eletto censore, una carica che gli conferiva un grande potere politico. In questo ruolo si occupò di riformare il sistema amministrativo e militare romano. Scipione fu anche un grande sostenitore dell'amicizia tra Roma e la Grecia. Nel 190 anno corrente, durante la guerra contro Antioco III, Scipione sconfisse l'esercito Selaucide nella battaglia di Magnesia. Dopo la vittoria, Scipione si recò ad Atene, dove fu accolto come un eroe. La carriera di Scipione terminò prematuramente nel 184 anno corrente, quando fu accusato di aver tramato contro la Repubblica. Scipione, che era un uomo onesto e patriottico, fu costretto a ritirarsi a vita privata all'Iterno, dove morì nel 183 anno corrente Scipione l'Africano e una figura fondamentale della storia romana. La sua vittoria a Zama segnò la fine della Seconda Guerra Punica e la definitiva affermazione di Roma come «potenza egemone nel Mediterraneo». Scipione fu anche un abile statista che contribuì a riformare la Repubblica Romana. Le sue principali imprese Le principali imprese di Scipione l'Africano possono essere così riassunte. Nel 205 anno corrente, a soli 29 anni, fu eletto con Sol e gli fu affidato il comando della guerra contro Cartagine. Nel 204 anno corrente sbarcò in Africa e, dopo una serie di vittorie, nel 202 anno corrente sconfisse definitivamente l'esercito cartaginese nella battaglia di Zama. Per la sua vittoria a Zama, Scipione fu acclamato l'Africano e gli fu concesso un trionfo. Nel 201 anno corrente fu eletto censore, una carica che gli conferiva un grande potere politico. Nel 190 anno corrente, durante la guerra contro Antioco III, Scipione sconfisse l'esercito se la uccide nella battaglia di Magnesia. Il suo lascito Scipione l'Africano è una figura che ha lasciato un profondo segno nella storia romana. La sua vittoria a Zama è considerata una delle più grandi imprese militari di tutti i tempi. Scipione fu anche un abile statista che contribuì a riformare la Repubblica Romana. Il suo lascito è ancora oggi vivo e attuale. Scipione è considerato un esempio di grandezza e di onore, e la sua storia continua a ispirare generazioni di uomini e donne.